Ciao ragazzi, allora nuovo video, allora aspetta che sistemo la telecamera Allora, nuovo video, mi vedete vestita se nello stesso modo perché ho un po' di tempo e quindi giro alcuni video Allora, questo è il video What's my bag con la mia nuova borsa Michael Kors questa qui, versione appunto invernale questa qui è una Anton Bag, appunto di Michael Kors ha la tracollina, così è di una pelle veramente morbidissima, io lo stra adoro è capiente, è comodissima perché appunto ha la tracolla come sapete io adoro le borsi con la tracolla questa qui l'ho presa all'Outlet Village, Fashion Village appunto che c'è in Sicilia a Lenna, quindi bellissima sono veramente orgogliosissima della mia nuova Michael Kors perché questa appunto non è la mia prima Michael Kors ma già questa qui è la terza corsa dunque, iniziamo subito all'interno è così, ha una cerniera centrale dove mettere l'iPad e poi due grandi capienti spazi questo porta monetine dell'Hub a forma di una Karun poi ho il mio portaocchiali ho un pacchettino di pazzoletti questi qua, carissimi poi, poi, poi cosa vi è? uno scontrino sì poi il mio telefonino con la cover rosa il mio portafogli è simile Moschino appunto con gli orsacchiottini è carissimo questo portafogli perché è veramente daviente qui per i soldi di carta mentre qui metto le monetine poi per ultima cosa appunto non sto caricando più tantissimo le borse perché sono fru di cervicale quindi più le carico più appunto mi si raggiunge un dolore atroce quindi cerco di mettere le cose appunto che utilizzo di più e che ne ho bisogno e poi questa pochettina dove c'è appunto parigi come sapete io strato parigi e all'interno abbiamo questo pennello della Liabel che è utiliso sia per mettere la cipria che per mettere il blush questo qui è nuovo di Catrice è un illuminating blush 030 Kiss Me Can aspettate è troppo carino questo blush poi ho un elastico di questi qua che utilizzo io elasticizzati di plastica poi il rossetto che ho indosso adesso che ho questo di Chicco numero 13 il famosissimo 13 Illumited Stilo poi un altro rossettino di Essence su cui è Sheer e lo metto in borsa appunto se mi dimentico di mettere il rossetto che sto utilizzando poi un lip balm questo qui della Sienne è un color lip balm 03 Sweet Raspberry che appunto è un colore rosso fracola bello e poi abbiamo l'ultimo due prodottini che sono questo specchio spazzola di Barbie della linea di Tezense appunto questo utilissimo appunto in borsa e poi il mio antibatterico appunto Gelmani questo qui è della Mercedes di Flower Power lo trovate da Sephora ma io l'ho preso da Sephora Francia quando appunto sono stata in Francia e questo appunto è il contenuto della mia pochettina per il trucco è troppo carina perché infatti abbiamo Notre Dame poi poi l'Arc de Triomphe poi il Quiliservo Cuore e la Tour Eiffel bene la borsa è stata svuotata tutta infatti una carabellina questa è qui al miele era nascosta non me ne sono accorta e niente cadono cose è una mollettina per i capelli e niente la borsa appunto è stata svuotata adesso me la riempio di nuovo perché appunto devo uscire mi piace tantissimo perché oltre a non ha zip appunto centrale ne ha solamente una questa qui però per evitare tipo che qualcuno metta le mani dentro c'è questo gangettino così che appunto si chiude con questa clip che è veramente utile e niente io e la Michael Coors appunto Hamilton mi salutiamo spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao